Se Giuseppe non avesse creduto all'angelo del sogno, a quest'ora il cristianesimo sarebbe molto diverso. Maria incinta, per opera dello Spirito Santo, era destinata alla lapidazione per adulterio e Giuseppe l'ha voluta salvare mantenendo il segreto. Pensiamoci bene, il cristianesimo è esistito grazie ad una famigliola sconosciuta di un piccolo villaggio della Galilea. San Giuseppe giustamente è patrono della Chiesa Universale.